Cominciamo col dire che io ho conosciuto Pinelli nel 65 al circolo Sacco e Vanzetti. Io ero da poco che avevo conosciuto gli anarchici e sapevo dell'esistenza dell'anarchismo e quella fu l'occasione di incontrare parecchi anarchici in un circolo. Ci fu proprio Giuseppe Pinelli che dopo aver notato la mia frequenza al circolo mi chiese se volevo entrare a far parte del suo gruppo che si chiamava allora Gioventù Libertaria. Io accettai molto volentieri e da quel momento io entro a far parte del movimento anarchico. Quindi con Pinelli fin dall'inizio si è stabilito un rapporto di simpatia tanto che il nostro rapporto non era soltanto fatto di militanza ma nacque una profonda e sincera amicizia dovuto dal fatto che avevamo più o meno, lui aveva soltanto tre anni più di me. Lui era sposato con due belle bambine, io ero sposato con due maschietti e ci si frequentavamo anche di casa. Tutto ciò che noi abbiamo fatto di lavoro politico era quello di organizzare dibattiti, fare manifesti, serigrafare, allora li facevamo tutti noi, serigrafare oppure ci costilare o allora volantinare. Questo era tutto il lavoro tranquillamente e quindi fino a quando non è accaduto proprio l'attentato alla fiera campionaria nell'aprile del 69. Purtroppo quella data segna il destino, lo sappiamo dopo, di Giuseppe Pinelli. Fummo da quel momento strettamente sorvegliati proprio dalla polizia politica, da Calabresi, che puntò direttamente su Pinelli. Eravamo diversi, però probabilmente perché sapevano che Pinelli era un profondo conoscitore del movimento o forse perché manteneva la corrispondenza non soltanto in Italia ma anche all'estero, che era molto attivo in tutte le cose, conosceva tutto e tutti. Sta di fatto che da quel momento, da quel giorno, Giuseppe Pinelli di tanto in tanto veniva invitato dal commissario Calabresi a recarsi in quest'ora. Bisogna dire che inizialmente l'abbiamo preso quasi, anzi Pinelli l'ha preso quasi come un gioco perché quando poi lui il giorno dopo, oppure quando ci si incontrava alle assemblee, alle riunioni, ci raccontavano degli aneddoti, cose volevano sapere da lui, lui diceva tante di quelle balle, che quasi si divertivano. Tanto è vero che poi alla fine, col passare dei mesi, gli avevano anche proposto di fare il confidente dandolo qualche cosa, eccetera. Pinelli disse voi siete pazzi. Inizialmente questo rapporto, questo invito, era quasi più che democratico, quasi amichevole. Questo ne so bene perché molte volte lo accompagnavo, lui aveva un motorino scassato, ci mettevamo tutti e due lì sopra e si andava. Tanto che quando veniva invitato in quest'ora, il Calabresi metteva la bandiera anarchica dietro la sua scrivania, forse per farla sentire a suo agio, eccetera. E questo andava avanti per parecchi mesi. A un certo punto l'invito si faceva sempre più frequente, talmente frequente che Pinelli cominciava a avere paura di perdere il posto di lavoro. Perché se inizialmente per due o tre mesi dava a Pinelli la possibilità di scegliere il giorno e l'ora, perché lui faceva i tu, era un tornista, più avanti invece no, doveva andare quando lo era invitato. E questo gli seccava moltissimo, era molto, molto preoccupato. Man mano che le lotte si facevano più cruente, più cruente, l'invito era sempre più pressante. Finché poi avvenne quella maledetta esplosione, quella attentato, e quel giorno Giuseppe Pinelli andò al circolo Scaldasole, perché avevamo anche un circolo Scaldasole. E guarda caso si trovò proprio nel momento in cui la squadra politica, che allora mi pare che c'era Lograno, Panessa e il commissario, e incontrarono Giuseppe Pinelli che andava proprio al circolo. e gli disse di seguirlo, perché per il fatto che era accaduto. E Pinelli tranquillamente lo seguì col suo motorino. Tanto era pericoloso, no? Che lo seguirono in prima. Dopo un po', fu questo, accadde la notte, verso le due di notte, verso le due di notte, una squadra di poliziotti erano in tre, in tre armate di mitra, vennero a casa, abitavo a Baggio, e mi invitarono a seguire. Erano le due di notte, mezzo addormentato, e vedo, entro in questo grande salone, tutti di anarchici. Sembrava quasi di vivere un sogno, qualcosa, e diceva, cosa abbiamo fatto, che cosa è successo. Si sapeva che inizialmente avevano detto che era una caldaia, poi avevano detto che si trattava di un attentato. Questa è stata l'ultima volta che io ho visto vivo Giuseppe Pinelli. Siamo stati rilasciati 48 ore dopo, grossomodo, non ricordo bene, no? Pinelli invece era rimasto dentro. Due giorni dopo, io ho avuto la terribile notizia dalla casa di Pinelli, che era un amico della moglie di Pinelli, che mi diceva che Pinelli è morto. Erano le tre, verso le tre di notte. Io sono stato talmente male che ebbe la febbre a 40. Eppure ricordo benissimo quando mi disse come è morto. Io gli ho detto come è morto. Mi dicono che si è buttato dalla finestra. Io non ho creduto neanche per un solo attimo che Pinelli avrebbe potuto uccidersi. Prima perché lo conoscevo benissimo, poi perché tutto il tempo fuori del lavoro eravamo sempre insieme, quindi era una cosa che non stava niente in piedi. E io per alcuni giorni non capivo niente, ero talmente quasi terrorizzato dalla caduta perché mai ci aspettavamo qualcosa del genere. Perché molti si domandano e chiedevano ma se è stato calabresi o non è stato calabresi a uccidere Pinelli. Dal mio punto di vista che sia stato personalmente che era presente nella stanza o che non fosse presente, calabresi è comunque responsabile della morte di Pinelli perché fu proprio lui a portarlo in quella camera quel giorno dopo ben otto mesi di persecuzioni perché gli si era attaccato a lui come una sanguisua e l'ha lasciato soltanto dopo morto. Questo ci tenevo a dirlo anche se poi non lo faranno dire. Comunque...